Nuovo record di sequestre di cocaina nel porto di Anversa in Belgio. Le autorità belge nel 2022 hanno sequestrato quasi 110 tonnellate di cocaina, un aumento significativo rispetto al 2021. Il porto di Anversa si conferma il punto di arrivo preferito per la cocaina da spedire in Europa dall'America Latina, spesso nascosta in casse di frutta. Per la prima volta i funzionari belgi e olandesi hanno deciso di rivelare insieme le loro cifre. I sequestri di cocaina ad Anversa sono passati da 89,5 a 109,9 tonnellate, mentre a Rotterdam il trend è stato a ribasso, passando da 70 a 52,5 tonnellate. Significa che Anversa non solo è la capitale dei diamanti, ma ora lo è anche del traffico internazionale di cocaina. E nella città belga sono aumentati i fatti di cronaca nera legati al traffico di droga. Ma le autorità di Belgio e Paesi Bassi sono in allarme, soprattutto per la quantità di droghe pesanti contrabandate in Europa tramite navi porta container.